Ben ritrovati, come è stato? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona sul logo AL, verso a questo punto l'obiettivo dei 15.000 iscritti, poi sarà i 20 e piano piano si cresce anche su questo canale con video flash, un format molto particolare, video flash. Vi invito a commentare qui sotto, vi raccomando e auguro subito a voi tutti buone feste. Emergono dettagli importanti sul futuro di Rafa Leao, perché nei primi giorni di gennaio il Milan riceverà Ted Dinvoulat, che è l'avvocato francese che rappresenta il centravanti esterno portoghese del Milan, e verrà presentata l'offerta. Da quello che abbiamo scoperto, l'offerta che il Milan presenterà sarà di 7 milioni di euro, cifra importante che renderebbe Leao il più pagato al Milan, anche molto di più rispetto agli altri. Ricordiamo che Leao ha il decreto crescita, offerta che lo farebbe traballare sicuramente, anche se lui poi ha quella questione legata al risarcimento che deve allo Sporting, che arriva quasi a 20 milioni di euro. Però lo sforzo è importante, lui e i compagni dice di voler restare, dal suo entourage filtra la volontà di voler restare, il Milan non lo vuole far partire, quindi ci sono sicuramente indicazioni positive. Secondo me non sarà l'offerta definitiva, mi aspetto che a 7 lui possa tentennare, ma che poi punti a avere magari anche qualcosa di più, si è parlato anche di un bonus alla firma, che potrebbe essere insomma il modo per fargli arrivare qualche soldino e aiutarlo nella questione Sporting Lisbona. Però dopo che il Milan chiuderà per Ben Nasserre il rinnovo in queste settimane, gennaio sarà il rinnovo di Giroud, facile, e soprattutto il tentativo per rinnovare Rafa Leao. Ditemi che cosa ne pensate, 7 una proposta congrua? Sicuramente uno sforzo, una linea di discontinuità rispetto a quello che il Milan con Elliot faceva, cioè massimo 4,5, non oltre, a parte Ibra che aveva 7 con il decreto crescita arrivato, anche con uno status diverso. Commentate numerosi qui sotto, iscrivetevi, in questa zona lasciate un bel like e vediamo appunto come si sviluppa la trattativa, vi aggiorneremo passo dopo passo. Un abbraccio ancora e mi raccomando iscrivetevi, ci conto in questa zona. UACOSI AL Video Flash. Ciao a tutti!